Sì, io l'ho saputo qualche giorno fa per una riunione politica, quando è stato avanzato il nome tra noi dirigenti, anche io ho pensato la stessa cosa, che si potesse andare incontro alle esigenze della minoranza, però è anche vero che Silvia è un nome che unisce, non è un nome che divide, non stiamo parlando di una persona che è politicamente riconosciuto in maggioranza o minoranza, sì, Renziano ha portato Andrea Casu, però penso che se le opposizioni trovano il nome di Sidi adeguato e riconoscibile, non hanno neanche problemi loro a riconoscersi in questa bella candidatura.